Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio parlarti delle opzioni di compatibilità. Le trovi nel menu opzioni, alla voce preferenze progetto. Dal menu contestuale devi andare a selezionare compatibilità. All'interno di questa finestra hai la possibilità di gestire le opzioni di compatibilità che puoi attivare o meno attraverso questi due checkbox. Il consiglio che ti do se stai lavorando con un'archicad superiore alla versione 16 non andare ad attivare queste opzioni anche perché quando le vai ad attivare andrai a impostare in archicad di lavorare come le versioni che vengono specificate subito sotto le opzioni. Dai pulsanti con la i hai la possibilità di aprire un menu che ti dà delle informazioni su come agisce l'opzione che vai a selezionare. Per farti un veloce esempio se vado ad attivare checkbox usa i metodi di intersezione di compatibilità con gli elementi del modello e confermo con ok. All'interno della visualizzazione 3d puoi vedere che l'elemento solaio e l'elemento muro che ho tracciato non si vanno a intersecare come siamo abituati a vedere dalla versione 17 in poi. Se vado ad attivare la sezione abbiamo l'intersezione dei due elementi ma non il collegamento corretto. Se ritorno all'interno della compatibilità e vado a disattivare checkbox e confermo con ok puoi vedere che i materiali della costruzione ora si legano in maniera corretta. Ricordati che queste impostazioni sono delle preferenze di progetto e sono memorizzate all'interno del file.